Il Barolo Le Vigne di Luciano Sandrone, uno dei migliori interpreti del vino piemontese, è un vino molto importante. Da qui il nome Le Vigne perché proviene da diversi vigneti della zona del Barolo. Da qui la sua bella complessità, è un vino importante dai profumi intensi dalla struttura molto molto intensa e di gusto. È un vino che deve essere consumato a una temperatura di 18 gradi, meglio decantarlo, fargli prendere l'ossigeno tre ore prima di consumarlo e può accompagnare di piatti molto importanti come potrebbero essere i grandi arrosti di manzo e sicuramente una bottiglia importante che bisogna mettere a tavola nei momenti importanti. Grazie a tutti.